A Teramo era una sfida a tre l'uscente Gianguido D'Alberto, Carlo Antonetti, Maria Cristina Marroni e i cittadini terramani hanno scelto di riconfermare al primo turno il sindaco uscente Gianguido D'Alberto con il 54,47% dei consensi, mentre lo sfidante di area centrodestra Carlo Antonetti ha ottenuto il 36,43% dei voti e Maria Cristina Marroni si è fermata al 9,10%. Ma ieri dall'inizio dello spoglio sono bastate un paio d'ore per capire già a metà pomeriggio che Gianguido D'Alberto sarebbe stato confermato senza ballottaggio sindaco di Teramo. Sindaco D'Alberto è passata la notte, come è andata? La notte è bellissima, di festeggiamenti in parte, ma c'era ancora tempo per festeggiare e soprattutto di gioia e di consapevolezza del risultato della città che comunque ha confermato il nostro progetto. Devo ringraziare tutti i cittadini, tutta la comunità, le liste, tutti i candidati, coloro che si sono messi in gioco per dare continuità a questo progetto di crescita di Teramo-Città-Capoluogo che si proietta verso il futuro. A proposito di assetto, già sta pensando la nuova squadra? Ma ci sto ragionando, è chiaro, attendiamo la proclamazione, vediamo anche la composizione del Consiglio, quindi qualche giorno di riflessione e poi si lavorerà per costruire la nuova squadra. Mentre per lo sfidante Carlo Antonetti è un risultato deludente. Non mi aspettavo e che non ci aspettavamo e quindi accettiamo ovviamente quello che è l'esito del voto dei cittadini che è sovrano, ma non ritengo, insomma, che non immaginavo si potesse arrivare a un risultato così netto davanti a una situazione di Teramo che è quella che è sotto gli occhi di tutti. Adesso io direi che bisogna valutare bene i risultati, analizzarli, dopodiché si tirano le somme sul perché magari una cosa non è andata come avremmo desiderato e per come abbiamo lavorato. È stata una campagna elettorale entusiasmante, è stata una campagna elettorale piena di energia, piena di contatto con i cittadini e questo è bellissimo. Soddisfatta per il risultato ottenuto Maria Cristina Marroni, l'ex vice sindaca nei primi anni di Giunta d'Alberto. È un risultato straordinario, un mese e mezzo fa ancora ci davano il 3-4% e quindi per noi in completa autonomia è un risultato straordinario. La mia sarà una posizione diversa rispetto a quella che ho fatto finora, sarà una posizione molto più propositiva e alcune proposte della campagna elettorale le riporterò in consiglio comunale sperando che il sindaco le possa prendere in considerazione. Mi interessa che alcuni punti in particolare vengano approvati e vengano portati avanti. Ma entriamo nel vivo degli eletti. Ci sono molte conferme nel nuovo consiglio comunale di Teramo ma c'è anche qualche volto nuovo e soprattutto tanti di essi sono femminili. Il dato più evidente è quello raggiunto da Giovanni Cavallari, vice sindaco uscente, il candidato consigliere più votato di questa elezione con 956 voti. Il successo dalle liste Insieme Possiamo in appoggio ad Alberto con il 15,2% non conferma però il numero dei seggi 8 del 2018. Stavolta sono sei consiglieri eletti, i già assessori Antonio Filipponi, Graziano Ciapanna, Ilaria De Santis e Sara Falini, il confermato Lanfranco Lancione e la new entry Valentina Papa. Quasi sicuri per il gioco degli assessorati dell'ex delegato alla cultura Andrea Core, Pertoni Di Ovidio e Silvia Romani. In maggioranza spazio anche per quattro consiglieri del Partito Democratico, Marco Di Marcantonio Voltonuovo, l'ex assessore Stefania Di Padova, l'ex presidente del consiglio Alberto Melarangelo e Luca Pilotti. Probabile spazio con le surroghe per Emiliano Carginari e Martina Maranella. Per Teramo Vive entrano Valdo Di Bonaventura, Simone Mistichelli, Deborah Fantozzi. Dalla lista del presidente della provincia in comune per te arrivano Mimmo Sbraccia, Flavio Bartolini e Fiorenzo Falasca. Tre voti di differenza costringono la probabile surroga Graziella Cordone in caso di assessorato confermato a Valdo Di Bonaventura. Infine, Pina Ciamariconi per i 5 Stelle e tre consiglieri di Bella Teramo, Giovanni Cavallari, Alessandra Ferri e Miriam Tulli. Con Massimo Varani pronto a subentrare al confermato assessore e vicesindaco. Sul fronte della minoranza con la candidata sindaca Cristina Marroni che torna a sedere sui banchi del consiglio e Carlo Antonetti che fa il suo esordio, ci sono anche i quattro consiglieri di Futuro Inne. Caterina Provvisiero, Franco Fracassa, Alessandro Di Berardino e uno tra Maurizio Salvi e Laura Angeloni, che si trovano nella particolare condizione di ex equo. Fratelli Italia imbarca Luca Corona e Raimondo Micheli, mentre Forza Italia conferma il solo Mario Cozzi. Amotè di Antonetti, Alessio Di Egidio e infine la Lega di Salvini riporta in consiglio dopo anni Berardo Rabuffo.